Ben trovati a questa nuova edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito quali sono gli argomenti del giorno. In primo piano il servizio di pulizia al comune di Sulmona. Pulizie bloccate, secondo esposto in procura della CGL. Domani intanto scatta il licenziamento. Il servizio è di Andrea Daurelio. 11 lavoratori del servizio di pulizia verso licenziamento perché il comune di Sulmona ancora procede al cambio di appalto scaduto lo scorso 26 novembre. I bani pubblici di Viale Roosevelt sono chiusi per cittadini e turisti. Nessuno pulisce quelli di Palazzo San Francesco con tutte le conseguenze del caso. E oggi è l'ultimo giorno di tregua concesso ai lavoratori dalla Puritas, la cooperativa che finora ha gestito il servizio per conto del comune. Quello che loro vogliono fare non lo fanno. Per la CGL si tratta di un'interruzione di pubblico servizio. Rande che il segretario della Filcams CGL della provincia dell'Aquila, Luigi Antonetti, ha annunciato il secondo esposto in procura. Certo, purtroppo è inevitabile fare un secondo esposto alla Procura Repubblica con la speranza che questa volta magari si dia maggior attenzione a questa problematica in quanto ci siamo, è come un grigio avuto, si ripete continuamente ogni volta che comunque è in essere una cessazione, un cambio d'appalto, un nuovo dell'appalto, comunque in questo caso delle polizie. Non solo abbiamo il problema per quanto riguarda l'appalto della mente, l'esplosione scolastica, sapete tutti come è andata a finire e che per fortuna è stato risolto. Ma le polizie è una cosa scandalosa che si ripete puntualmente ogni qualvolta. E ogni qualvolta chi ci rimette sempre è il servizio sui lavoratori e sui cittadini. Quindi questa amministrazione deve capire che deve fare bene il proprio velo, deve fare bene. Farlo bene significa che gli appalti non possono essere fatti due giorni prima della scadenza. Quando fatti un mese prima, devono dare la possibilità alle parti sociali, alle aziende subentrante, quelle che devono uscire, di fare i propri addendimenti, perché se non ci siamo. Costituona Antonetti che sta predisponendo assieme a tutto il comparto della CGL una nota congiunta da recapitare all'amministrazione comunale. Qui bisogna mettersi in mente che il problema dei servizi comunali riguarda tanto la maggioranza quanto l'opposizione. Bisogna sedersi tutti intorno a un tavolino per risolvere una volta per tutte questa situazione. Rincara Antonetti, spalleggiato da Anthony Pasqualone, che sta curando proprio l'avvertenza di altri servizi comunali fermi, come l'assistenza informatica e i tributi. Si rischia anche di non registrare le sedute del Consiglio Comunale se andiamo avanti in questo modo, interviene Pasqualone. La CGL unisce le forze, va in procura e dichiara battaglia agli amministratori comunali. Adesso c'è un aggiornamento di cronaca. Risiedevano fra Vasto e San Salvo, dove avevano bar ed esercizi commerciali, ma in realtà gestivano l'importazione dall'Albania e da altri paesi dell'est di grosse quantità di cocaina, eroina e hashish. I principali esponenti della banda di albanesi, sgominata da carabinieri e finanzieri dei comandi provinciali di Chieti, dunque importava, come dicevamo, droga dall'Albania, droga che poi, attraverso una serie di referenti, veniva distribuita in Abruzzo e in altre regioni italiane. Sono 20 gli orni di custodia cautelare in carcere messi dal GIP presso il Tribunale dell'Aquila su richiesta della direzione distrettuale antimafia ed eseguita dagli uomini delle forze dell'ordine all'alba di oggi nelle province di Chieti, Genova, Campobasso e Foggia. L'operazione arriva al termine di un'indagine durata oltre un anno e che aveva già portato all'arresto di 13 persone e al sequestro di 12 chilogrammi di stupefacenti, tra le accuse anche detenzione e porto illegale di armi. Sono 37 inoltre i decreti di perquisizione nei confronti di altrettanti indagati. E lasciamo questo aggiornamento di cronaca. Adesso torniamo a Sulmona per occuparci del divieto di sosta sul Ponte Capograssi. Pagano il parcheggio e vengono multati. Ancora dunque raffica di sanzioni sul Ponte Capograssi a Sulmona. illustriamo meglio la situazione nel servizio di Andrea Daurelli. Il film è già visto da replica sul Ponte Capograssi di Sulmona. Gli automobilisti pagano il parcheggio dove vige il divieto di sosta ma vengono multati. Dopo la raffica di multe di qualche settimana fa, quando di domenica furono sanzionati almeno 9 automobilisti, questa mattina la polizia locale ha combinato altre sanzioni. Non ci sono scuse per gli automobilisti disciplinati perché prevale la segnaletica orizzontale, vale a dire cartello con tanto di divieto di sosta posto all'inizio dell'infrastruttura nei pressi dell'edicola ma quelle strisce blu continuano a trarre l'inganno. Il divieto di sosta è stato introdotto con l'ordinanza sindacale lo scorso mese di agosto dopo la tragedia di Genova. L'ingegnere che progettò il Ponte Crollato è lo stesso che deò il Ponte Capograssi a Sulmona. Da lì la necessità di avviare tutte le verifiche del caso a titolo precauzionale. Ma da quell'ordinanza sono passati esattamente tre mesi senza che le indagini siano cominciate, nonostante i 15.000 euro allocati in bilancio come variazione. Per l'altro Ponte di Morandi si vogliono quindi accertare le condizioni attuali dell'opera attraverso una serie di verifiche di vulnerabilità strutturale perché si sa che prevenire è meglio che curare. Uno studio di vulnerabilità sismica fu effettuato nell'ottobre 2016 quando il Ponte venne chiuso al traffico veicolare a seguito del terremoto Rinorcia. Ora si attende l'incarico annunciato già per fine agosto ma l'ordinanza del Comune tre mesi fa fece scattare una serie di reazioni. Il piazzale dei MUSP è al buio, presentati tre solleciti al Comune di Sulmona che corre ai ripari. Sentiamo. Diventa un'impresa per alunni e docenti uscire dei MUSP dell'ex caserma Cesare Battisti. Il piazzale è completamente al buio, ormai da diverso tempo non gode dell'illuminazione pubblica. Una situazione che la dirigenza scolastica dell'Istituto Mazzini Capograssi ha messo già nero su bianco inviando ben tre solleciti alle amministratori di Palazzo San Francesco. La serie di esposte finirà passata inosservata visto che la criticità permane con genitori, insegnanti e studenti che in alcuni casi sono costretti a ricorrere alle torce personali o a quelle del telefono per illuminare il piazzale dell'ex caserma al termine dell'orario prolungato. Ormai le giornate si sono accorciate e noi abbiamo scritto per tre volte al Comune facendo notare anche la criticità del portone d'ingresso che non risulta completamente chiuso fanno sapere dalla scuola. La segnalazione sarà presa immediatamente in carico dal vice sindaco Nicola Angelucci che si è attivato per la risoluzione della problematica. Un inconveniente che Angelucci conta di risolvere nel giro di qualche giorno almeno quello della luce nel piazzale. Quando la porta d'ingresso lo stesso vice sindaco precisa che il portone collocato all'interno è sempre chiuso e quindi il problema si pone relativamente anche se va risolto come fatto notare da un datg che lo scorso 9 novembre ha scattato di notte la foto che ritrae la porta d'ingresso socchiusa. Adesso ci occupiamo dei tribunali a rischio perché la provincia chiede un incontro al ministro Bonafede il servizio è di Andrea D'Auree. Nel giorno della presentazione della relazione finale della commissione regionale anche il consiglio provinciale dell'Aquila conferma con voto unanime la contrarietà alla soppressione dei tribunali di Summona Vezzano e delle relative procure della Repubblica. Una mozione a riguardo sarà presentata questa mattina dal consigliere provinciale Moro Tirabassi. La mozione è sostenuta anche dal presidente della provincia Angelo Caruso e dal consigliere provinciale Fabio Ranalli. Impegni al presidente della regione richiedere un incontro urgente con il ministro della giustizia e con il governo da tenersi congiuntamente con la commissione regionale e tribunali d'Abruzzo affinché sulla base del cosiddetto contratto di governo siano adottati anche in via di urgenza tutti i provvedimenti più opportuni e necessari ai fini della salvaguardia e del mantenimento dei tribunali di Summona Vezzano con le relative procure della Repubblica. Inoltre la mozione chiede una mobilitazione generale al Ministero della Giustizia, al Parlamento della Repubblica, soprattutto ai deputati e senatori del territorio, alle forze politiche tutti, al Governo della Regione, al Consiglio Nazionale Forense, alle organizzazioni sindacali, alle associazioni di categoria, agli ordini professionali del territorio, di adoperarsi ciascuno per le rispettive competenze con gli strumenti previsti e concessi dell'ordinamento a fine di salvaguardare la permanenza del Tribunale di Summona Vezzano in applicazione dei criteri della specificità territoriale e della peculiare situazione infrastrutturale, così da non pregiudicare l'inviolabile diritto alla giustizia. Infine la mozione impegni al Presidente della Regione a riaffermare la particolare peculiarità del territorio dell'Abruzzo interno della provincia dell'Aquila in termini di viabilità, orografia e clima e conseguentemente a risolvere preliminarmente la contraddizione normativa sull'eccessivo accentramento dei presidi giudiziari serie di provincia nelle città di Chieti e Pescara, con la conseguente riperimetrazione delle circoscrizioni giudiziarie del Tribunale di Sulmona. Il Consiglio regionale abruzzese nella tarda serata di ieri ha approvato all'unanimità un provvedimento che prevede il taglio dei vitalizi in essere maturati che va dal 9 al 25% per gli assegni mensili superiori a 1.500 euro e fino ad oltre 6.000 euro. Il provvedimento anticipa l'obbligo di riduzione dei vitalizi degli ex consiglieri regionali annunciato dal Governo che inserirà nella legge di stabilità all'imposizione, pena il taglio dell'80% per cento dei trasferimenti statali. L'Assemblea ha anche abolito il doppio vitalizio. Adesso ci spostiamo a Castelli Sangro per occuparci dell'ospedale Sangrino personale carente e macchinari obsoleti blitz del consigliere regionale del Movimento 5 Stelle. Vediamo di chi si tratta nel servizio di Andrea D'Aurelio. Mancanza di un cardiologo nelle ore notturne durante i festivi, mancanza di tecnici di laboratori analisi che possano utilizzare macchinari di ultimissima generazione in dotazione alla struttura e totale inadeguatezza nell'affrontare le emergenze. E questo è quadro allarmante scaturito dalla visita ispettiva del consigliere regionale Gianluca Ranieri presso l'ospedale di Castel di Sangro. Il 5 Stelle, accompagnato dalla sua assistente Mariangela Nerone, ha voluto riscontrare personalmente le gravi criticità che interessano la struttura, punto di riferimento non solo dei comuni dell'Alto Sangro, ma anche di quelli limitrofi dell'Alto Chietino e dell'Alto Molise. Ricevo costanti richieste di aiuto e di intervento da parte dei cittadini e degli operatori dell'ospedale di Castel di Sangro, afferma Ranieri. Un ospedale ormai da anni depotenziato da quella politica che prometteva coccole per i pazienti, invece ha ridotto la sanità abruzzese, servizi locali in particolare, a una condizione di totale inefficienza, esponendo i cittadini di questo territorio a un rischio altissimo di cui spesso non sono neanche consapevoli. Questo modo di gestire la sanità, legato solo i numeri, non è più sostenibile per i cittadini dell'Alto Sangro e di tutto l'Abruzzo, incalza il consigliere regionale, medici e infermieri lamentano la totale inadeguatezza della struttura ad affrontare le emergenze. Il personale segnala anche la mancanza di un cardiologo nelle ore notturne e durante i festivi, di tecnici dei laboratori analisi che possano utilizzare i macchinari di ultimissima generazione in donazione alla struttura, per mancanza di personale sono suppliti da macchinari obsoleti che si utilizzavano venti anni fa. Queste apparecchiature risultano inadatte a una tempestiva di agnosi in caso di infarto e unitamente alla mancanza del cardiologo espongono l'utenza a un rischio altissimo e inammissibile. È necessario ripristinare l'efficienza del pronto soccorso mettendo a disposizione della struttura tutte le figure necessarie e la disponibilità della sala operatoria per gestire le emergenze e garantire diagnosi tempestive. Castel di Sangro è vicino a uno dei bacini turistici più importanti della regione. Numerose le piste da sci, sentieri per le escursioni, non avere un reparto attrezzato per l'emergenza è davvero una follia, conclude Ranieri. Adesso lasciamo la sanità e passiamo ad altro. Ovidio venne mandato in esilio perché svelò il nome segreto della città di Roma e questa ripotesi sollevata dagli studiosi Felice Vinci e Arduino Maiuri che è stata illustrata nei giorni scorsi a Sulmona dopo la presentazione avvenuta al Campidoglio nell'ottobre scorso. Il servizio. A due mila anni dalla morte di Ovidio il reale motivo del suo esilio è ancora sconosciuto. Al momento della condanna da parte di Augusto Ovidio era impegnato nella stesura dei fasti opera che doveva comprendere in tutto 12 libri uno per ciascun mese dell'anno. Tuttavia il poeta giunto al sesto libro nell'ottavo dopo Cristo fu colpito da un improvviso ordine di relegazione a Tomi il che troncò la sua fatica a metà. Potrebbe dunque essere lecito dedurre che vi fosse un legame tra l'inaspettata condanna e ciò che il poeta aveva appena scritto. Ovidio avrebbe infatti rivelato il nome segreto della città di Roma che è Maia. Si collega questo discorso con l'interdizione assoluta che avevano gli antichi romani di citare il nome della loro Dea Protettrice che abbiamo scoperto essere Maia una delle sette pleiadi e a questo punto si capisce perché Ovidio ringrazia lo stesso Augusto di averlo condannato solo alla relegazione evitandogli la pena di morte. Così lo studioso Felice Vinci che insieme ad Arduino Maiuri sostiene questa tesi che pubblicata sulla rivista punti romani di filologia è contenuta nello studio Mai dire Maia. Abbiamo apportato una serie di prove che per il discorso complementare integrato dei nostri studi variano dall'aspetto umanistico a quello propriamente scientifico. I due studiosi hanno illustrato i punti salienti della teoria in una conferenza all'hotel Ovidius di Sulmona sul tema Ovidio Maia e il nome segreto di Roma. Tiziana D'Achille direttrice dell'Accademia di Belle Arti di Roma. Un'ipotesi molto affascinante che parte dalla ricostruzione di un suggerimento che Ovidio avrebbe dato all'interno dei fasti per intuire o indovinare il nome segreto di Roma della divinità protettrice di Roma che come tutti sappiamo era un segreto che se è rivelato poteva essere punito anche con la morte. Chi appunto ipotizza un tradimento da questo punto di vista è proprio Felice Vinci che ricostruisce questa ipotesi affascinante attraverso un'analisi filologica molto molto accurata. Are interne una montagna di risorse turismo sport e natura un'occasione di crescita per i giovani e il territorio si parlerà di questo domani nella sala convegni del comune di Raiano ci saranno due sessioni una la mattina e uno il pomeriggio la mattina dalle 9.30 alle 13.30 ci saranno corsi di aggiornamento con accreditamento si tratta di due corsi il primo riguarda lo studio della biologia e il secondo la partita IVA questa sconosciuta il fisco per le guide GAE e le novità fiscali in arrivo nel pomeriggio dalle 15.30 ci sarà il convegno e la tavola rotonda con l'introduzione di Paolo Di Giulio presidente dell'associazione Terecolte d'Abruzzo i saluti del sindaco di Raiano Marco Mocca di Melilisa Zitella delegata della diserva naturale regionale Gole di San Menanzio Patrizio Schiazza presidente dell'associazione regionale Ambiente e Vita e Fabio Spinosapingue presidente della DMC Terre d'Amore poi gli interventi di Guglielmo Ruggero componente della giunta esegutiva AIGAI poi Enrico Miccadei dell'Università d'Annunzio di Chieti Pescara Salvatore Costantini coordinatore territoriale Abruzzo AIGAI e poi Roberto Montagna consulente marketing turismo dell'ente turismo regionale tirolese austriaco a seguire la tavola rotonda con il confronto tra gli operatori di settore parteciperà l'onorevole Gianluca Vacca sottosegretario del Ministero per i beni e le attività culturali dopo aver rappresentato questo appuntamento in programma domani a Raiano è giunto adesso il momento dello spazio riservato alle notizie aquilani a cura del capoluogo punto it buongiorno dalla redazione del capoluogo per il Tg e le notizie principali del giorno apriamo con i doppi vitalizi aboliti nella regione Abruzzo e rimodulati quelli spettanti agli ex consiglieri regionali abruzzesi l'ultima seduta del consiglio regionale è terminata infatti con l'approvazione all'unanimità della legge sui vitalizi frutto dell'unificazione di due differenti progetti di legge presentati dal PD e dal Movimento 5 Stelle il documento prevede che dal mese successivo a quello di entrata in vigore della legge e fino al 31 dicembre 2020 gli assegni di vitalizi in pagamento all'entrata in vigore della nuova disposizione gli assegni vitalizi erogati successivamente a tale termine sono ridotti in base a un calcolo progressivo sugli importi mensili lordi spettanti passiamo alla politica crisi fratelli d'italia aquilani a rapporto dopo il rinvio del consiglio comunale per mancanza di numero legale il sindaco biondi informa il coordinatore regionale di fratelli d'italia il gruppo verrà convocato da sigismondi non è servito il comunicato del sindaco biondi di ieri pomeriggio a stemperare gli animi di fratelli d'italia dopo la scoppiettante riunione di maggioranza che ha registrato la dura presa di posizione del capogruppo giorgio de matteis che ha chiesto una verifica che in molti hanno letto come una richiesta di azzeramento della giunta e sempre a proposito di fratelli d'italia oggi abbiamo avuto una pausa caffè in diretta con il senatore marco marsilio e il direttore roberta galeotti da non perdere sempre sul capoluogo punto it una grande vittoria per l'abruzzo i bus restano a tiburtina vince l'abruzzo infatti poiché la stazione di roma tiburtina non verrà spostata alla lagnina i bus abruzzesi e aquilani continueranno a fermarsi a tiburtina e la stessa rimarrà lo scalo per i bus soprattutto quelli provenienti dall'aquila scongiurato lo spostamento del terminal che la giunta raggi voleva delocalizzare alla nagnina passata all'unanimità dopo alcuni emendamenti presentati da alcuni gruppi consigliari la mozione di fratelli d'italia in assemblea capitolina soddisfatto il sindaco dell'aquila pierluigi biondi la mozione impegna il sindaco virginia raggi a mantenere un terminal bus a tiburtina recuperando e riqualificando l'area del piazzale est per realizzarvi una nuova autostazione passiamo al piano rifiuti che torna in commissione le modifiche al piano di gestione rifiuti non vengono approvate in consiglio regionale ma tornano in commissione per un secondo esame dopo l'allarme lanciato dai sindaci di barete e pizzoli sostenuti dal comitato eterno aria il presidente della commissione competente pierpaolo pietrucci durante il consiglio regionale di ieri ha ritirato la modifica al piano di gestione rifiuti per un secondo passaggio in commissione una bella notizia una notizia di inclusione di integrazione che ci giunge da pizzoli perché il campo dell'integrazione fiorisce a pizzoli si è tenuto infatti ieri l'incontro di presentazione del progetto campo dell'integrazione promosso dal comune di pizzoli dalla parrocchia di santo stefano di pizzoli e realizzato grazie al contributo del dipartimento pari opportunità della presidenza del consiglio dei ministri nell'articolo abbiamo le dichiarazioni e i dettagli grazie a don claudio tracanna che ha raccontato il progetto ai microfoni del capoluogo un compleanno importante oggi un weekend di festeggiamenti da Fabio Rosito parrucchieri l'attività compie infatti oggi dieci anni e il decimo anniversario verrà festeggiato oggi 30 novembre e domani sabato primo dicembre da tutto lo staff di Fabio Rosito parrucchieri con un brindisi in salone offerto ai clienti dieci magnifici anni di attività così definiscono questi ultimi anni Fabio la sorella Marica e tutto l'affiatatissimo staff che fra un colore e una pettinatura non fa mai mancare il sorriso la gentilezza e la professionalità ai suoi clienti quindi appuntamento da Fabio in via Cardinale Mazzarino 49 vicino al bar Le Fontanelle e auguri a Fabio Marica e a tutti i collaboratori da tutta la redazione del capoluogo chiudiamo come di consueto con il meteo annuvolamenti temperature in lieve aumento tra domani e domenica una nuova perturbazione atlantica favorirà annuvolamenti consistenti anche sulla nostra regione dove occasionalmente potranno verificarsi precipitazioni generalmente di debole intensità e a carattere sparso ma più probabili sulla Marica e nell'Aquilano per oggi dalla redazione del capoluogo è tutto seguiteci anche sulla web tv e appuntamento al TG a lunedì non ci sono altri aggiornamenti così prima di concludere possiamo vedere la programmazione cinematografica la multisala Igioland di Corfinio sono in programmazione questi film Bohemian Rhapsody alle 18 e 20 e 21 e 10 Sesso Rose con proiezioni alle 18 e 10 e 21 e 10 il Grink alle 18 e alle 20 e 40 per quanto riguarda invece il cinema pacifico di Sulmona c'è il film Sesso Rose il film di Leonardo Pieraccioni dunque con orari alle 18 e alle 20 e 45 è tutto per questa edizione del giorno del nostro telegiornale grazie della cortesa attenzione prossimo appuntamento con l'informazione in diretta questa sera alle ore 20 ci salutiamo con il meteo buona giornata sulla nostra regione condizioni generali di cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso per la presenza di nubi alte stratificate che non produrranno fenomeni di rilievo non si escludono schiarite localmente anche ampie ma la tendenza è verso un ulteriore aumento della nuvolosità inserata e innotata specie sul settore occidentale dove non si escludono occasionali precipitazioni temperature in lieve aumento specie nei valori minimi stazionari e nei valori massimi venti deboli dei quadranti meridionali mare poco mosso o localmente mosso di nubi di nubi di nubi di nubi di nubi percino qui di nubi di nubi e Grazie a tutti.